Allora, Leonardo Damiani, direttore del Dipartimento di Icatec del Politecnico di Bari. Oggi si è chiusa questa iniziativa promossa da Italgas con Mondo Digitale, che secondo me è stata preziosa per i nostri ragazzi, perché li ha aiutati a conoscere una realtà nuova, lavorativa, in cui probabilmente potrebbero trovarsi inseriti, ma perché ha messo in evidenza tante cose, tanti elementi che sono importanti per i giovani d'oggi. La conoscenza, senza la conoscenza non c'è possibilità di innovare, l'entusiasmo e la passione senza i quali non ci si diverte lavorando e poi soprattutto anche la flessibilità. I ragazzi di oggi sono chiamati ad inventarsi il lavoro. Grazie.